saluti italiani ciao 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 bella ciao a tutti buongiorno buongiorno a tutti buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti salve 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 a tutti buonasera 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 a tutti buonanotte 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 a tutti ciao tu come ti chiami mi chiamo chiara e tu io mi chiamo massimo piacere di conoscerti ciao tu chi sei io sono chiara e tu io sono massimo piacere di conoscerti ciao come va ciao come stai così e così e tu abbastanza bene grazie e tu non mi posso lamentare e tu molto bene grazie e tu benissimo che piacere vederti buongiorno io sono leonardo da vinci buongiorno io sono martina grimaldi piacere di conoscerla come sta sto bene grazie lei sto bene grazie arrivederla arrivederla a fra poco va bene a fra poco a presto va bene a presto a dopo va bene a dopo a domani va bene a domani a domani arrivederci 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 ciao ciao grazie e arrivederci alla prossima lezione ciao